Abbiamo la gioia di poter rivivere in questo luogo così significativo per Caminata, ecco, un momento bello, nella festa del Corpus Domini. Torna la sua piena funzionalità, la chiesa dei Santi Giacomo e Filippo di Caminate, che dopo i lavori di manutenzione straordinaria, riapre domenica 11 giugno con la Santa Messa delle ore 10. La chiesa era stata chiusa lo scorso novembre e per consentire i lavori di messa in sicurezza del soffitto, la celebrazione eucaristica era stata ufficiata nell'ormai ex capannone attiguo ristrutturato alcuni anni fa. Per l'intera comunità, la ritrovata disponibilità dell'unico luogo di culto a disposizione della frazione di Caminate e del territorio circostante è un momento di grande gioia, come sottolineato da Monsignor Alessandro Pierotti. Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla generosità del Vescovo Uscente Armando Trasarti, al contributo della BCC e alle libere offerte della gente. Questa chiesa, così com'è, è stata consecrata nel 1890. Una costruzione curata dall'allora parroco che a un certo punto ha seguito un po' lo stile classico, servendosi dell'ingegnere innocenzi. Ha una storia legata alla comunità stessa? Molto lunga nel tempo, si rifà addirittura all'epoca dei Malatesta, che dal 1350 al 1470 avevano qui un castello e una tenuta di caccia. Avevano costruito una chiesa intitolata in un primo momento a San Giovanni e poi ai Santi Filippo Giacomo, che era il titolo di una chiesa di Fano demolita per motivi militari e quindi il titolo fu trasferito qui nella chiesa di Camminati. E in questi ultimi anni che tipo di lavori sono stati eseguiti? In questi ultimi anni sono stati eseguiti alcuni lavori di rafforzamento del tetto e delle strutture principali della chiesa, poi lavori interni di manutenzione, di abbellimento, di colore, eccetera. La chiesa è dotata di vari quadri. Un organo che è stato acquistato nel 1898 dalla loro parroco, dalla chiesa di San Silvestro di Fano, poi un quadro dedicato al transito di San Giuseppe, che è una coppia del quadro che è giù a San Paterniano, un quadro di Sant'Antonio, poi abbiamo un quadro che ci darà la vicenda di San Paterniano con i suoi compagni, che è vissuto nel colle di Sant'Angelo, e poi un quadro che è la Madonna del Rosario, con i misteri messi attorno appunto come aiuto per i fedeli, per la preghiera dei fedeli. Il crocifisso è una scultura in legno, non sappiamo chi è l'autore, comunque è molto valorizzato e molto pregiato. Poi abbiamo il quadro della Sacra Famiglia, anche qui di autore ignoto, ma che dà una linea molto bella al quadro della Madonna, di Gesù, di San Giuseppe, insomma è una immagine particolarmente venerata qui nella parrocchia di Caminata. Opere che potranno essere ammirate nuovamente appunto da domenica, invitiamo tutti i fedeli a partecipare. Senz'altro, possiamo godere di questo bene che abbiamo e dobbiamo imparare anche a valorizzarlo.